ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi abbiamo parlato del circuito di parque of hiking questa è la mappa del circuito il circuito di parque of hiking è un circuito cittadino situato a santiago del cile la visa è stata creata per ospitare l'edizione 2019 dell'epri di santiago appuntamento valido per il campionato di formula e 2018 2019 questo circuito si trova all'interno del parco of hiking che la più grande area verde santiago e dove sono presenti anche attrazioni turistiche come la movistar arena e il parco divertimenti di fantasilandia versione 2020 per il campionato di formula e 2019 2020 il circuito è stato modificato spostando la corsia dei box a sinistra della rettellina iniziale eliminando le chicane dopo la curva 7 lasciando così una lunga curva a sinistra e modificando le due curve a gomito finali le modifiche sono state effettuate per evitare i molteplici incidenti occorsi nell'edizione 2019 e per aumentare azione in gara è questa strada del circuito di parque of hiking o higging come potete pronunciarlo comunque voi ok se il video vi è piaciuto come sempre vi dà shambra mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao